se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio è perché ti mancano le conoscenze per progredire noi di battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze academy e ciao a tutti amici di mattoscacco.com ben ritrovati nelle battute finali di questo norway chess questo round hanno battato praticamente tutti tutti all'armageddon vediamoci per uscire la grava contro ghiri che hanno giocato una siciliana piuttosto particolare stai un po' a vedere cavolo f3 d6 d4 fin qui tutto bene e uno si aspetterebbe subito la cattura cattura di cavallo ma arriva la cattura di regina chiaramente i giocatori iniziano a utilizzare linee secondarie terziarie quartarie esiste quartarie quarto già quartarie per andare un pochettino fuori dalla teoria o comunque su terreni meno battuti cavallo c6 chiaramente prendendo il tempo sulla donna e qui varcher la grave gioca donna in e3 una ritirata particolare ho analizzato questa posizione ho visto che nella maggior parte dei casi viene giocata alfiere b5 con l'idea di inchiodare questo cavallo e dopo una schiodatura si dà via all'alfiere per il cavallo in cambio di un rapido sviluppo mentre il nero è totalmente ancora da svilupparsi sull'ala dire quindi potrebbe essere interessante questo stile di gioco ma la partita non è andata così su cavallo c6 abbiamo detto che non è stata giocata alfiere ma ritirata di donna cavallo f6 adesso entrambi i giocatori cercano di tirare fuori i propri pezzi abbastanza velocemente perché in apertura lo sappiamo dobbiamo tirare fuori i nostri pezzi h3 preventiva per evitare salti di cavallo o inchiodature d'alfiere strane anzi anche se c'è poco da inchiodare visto che non c'è più la donna b6 torre d1 cavallo d7 e l'idea è quello di creare un bel posticino per questo cavallo oltre che ovviamente a dare finalmente potenza a questo alfiere a questo punto il bianco ha un problema per completare il proprio sviluppo ha bisogno di sviluppare l'alfiere in c1 ma dato che c'è la donna in e3 questo alfiere sembra che non possa andare da nessuna parte quindi o si toglie la donna e qui il computer suggerisce donna g5 o donna f4 ma è una mossa poco umana o si apre il fianchetto per l'alfiere farlo sviluppare in b2 la partita va proprio in questo modo ma qual è il problema di b3 è che b3 ahimè indebolisce questa diagonale ora è vero che il cavallo è tenuto dalla donna ma la donna non starà in e3 per sempre a meno che in futuro non si giochi torre b1 per evitare robe strane ma comunque il cavallo è sempre abbastanza sospeso andiamo a vedere come continua la partita alfiere b7 anche l'alfiere campo chiaro del nero va in fianchetto alfiere in b2 torre c8 e torre in d2 l'idea credo sia chiara sia quella di raddoppiare e nonostante questo tipo di struttura è piuttosto strano no in realtà ci sono poche debolezze e poche case chiave si sta lottando per a casa e5 che verrà probabilmente presa dal nero il bianco dal suo lato che cosa può fare può cercare di piazzare un cavallo in d5 chiaramente ora non è possibile bisogna iniziare a cercare di capire cosa fare forse raddoppio sulla colonna d e cercare poi di fare pressione lungo questa colonna non so come comunque la partita è tutta a giocare cavallo in d va in e5 c'è chiaramente anche un attacco su questo alfieretto cambio di cavalli e si ripropone l'attacco su questo alfiere che si ritira in e2 dove da e2 devo dire che ha delle ottime diagonali cavallo in d7 questo cavallo si toglie per fare ancora inchiodando ancora questo cavallo che tra l'altro adesso è anche attaccato due volte anche se è difeso altre tante volte torre b1 per togliere la torre da ogni possibile attacco torre d8 e ora è difficile da giocare questa posizione è davvero difficile qui il motore consiglia una mossa come cavallo d1 chiedendo uno scambio degli alfieri è veramente difficile in mancanza forse di idee il bianco gioca h4 l'idea è quella di iniziare a rompere la struttura dell'arrocco donna in c7 e cavallo b5 cavallo b5 c'è un attacco doppio se la donna dovesse spostarsi potrebbe forse cadere questo pedone andiamo a vedere la donna si sposta tra l'altro chiedendo un cambio di donne che viene dato e a questo punto il turno del bianco che forse può catturare il pedone ma decide di giocare f3 che cosa sarebbe caduto sulla cattura di pedone tu dirai va sicuramente torre a8 e poi si rifà su questo pedone in realtà c'è di meglio in realtà c'è di meglio che è cavallo per e4 perché dopo cavallo per e4 si minaccia la torre e il bianco minaccia la torre cattura la torre cattura la torre e la grande differenza è che il nero a differenza del bianco bianco si minaccia qualche pedoncino ma il nero minaccia la torre e se la torre dovesse spostarsi si perde l'alfiere quindi serve favorevole al nero questa continuazione f3 è solida anche se ovviamente rende un pochettino cieco questo alfiere che per ora poca mobilità come un po tutti i pezzi sulla scacchiera alfiere in h6 questo alfiere ne approfitta di questo indebolimento di questa diagonale scura la torre torna a casa a6 scacciando il cavallo cavallo in a3 b5 e ora questo cavallo non ha più case dove andare c4 obbligatoria per costringere il nero a spingere quindi cavallo in c2 con l'idea di riposizionarlo lungo la casa centrale a5 per rafforzare la posizione e ora alfiere d4 si credeva forse al cavallo ma il bianco decide di piazzare l'alfiere al centro f5 una mossa molto molto interessante sembra che dopo il cambio il nero rimanga con un pedone isolato a lato è vero ma anche è vero che c'è un grande centro rinforzato adesso l'idea è veramente quello di portare il cavallo al centro quindi alfiere f2 per fare un po di spazio cavallo in e6 per impedire la l'entrata di cavallo comunque per cambiare dopodiché potrebbe seguire e5 ma il cavallo trova un'altra casa dove andare e3 dove può tranquillamente prendersi l'avampostone su d5 e attaccare questo pedone che è indifeso torre f8 per difendere cavallo d5 ottima posizione e ora re in f7 perché si attaccava questo pedone g3 spinta del pedone e adesso il bianco finalmente ha un po di gioco ad est l'alfiere si ritira alfiere in d3 minacciando il pedone in h7 cavallo in d4 attaccando il pedone rg2 difendendo il pedone e6 attaccando il cavallo che si rifugia no scusami non si rifugia da nessuna parte sembra che questo cavallo ha un po di problemi di mobilità l'unica casa buona sembra b6 dopodiché dovrebbe ritirarsi in a4 quindi ritornare in gioco molto lentamente ma il bianco gioca alfiere per h7 dando il sacrificio al cavallo dato che comunque si rifarebbe sul cavallo avversario un'altra continuazione interessante sarebbe stata prima il cambio su questo cavallo e adesso in questo modo alfiere si sarebbe potuto ritirare cavallo b6 andando con l'idea di andare su d7 creare la forchettona e a questo punto questi pedoni sarebbe stato interessante anche questo gioco ma torniamo alla nostra partita su e6 sulla minaccia del cavallo alfiere per h7 e per d5 alfiere per d4 cattura di pedone e alfiere in f5 ora questa coppia di alfieri può dare molto fastidio queste torri la torre va in e8 l'idea è quella di entrare in seconda traversa e dare qualche scacco nulla di troppo spaventoso ma comunque una torre che si avvicina a vicino al re fa sempre abbastanza paura b per c4 torre 2 torre in e2 scacco il re piacerebbe andare in in h3 ma cadrebbe il pedone in f3 quindi l'unica è andare a parare con l'alfiere f2 inchiodandosi da solo un pezzo tra l'altro adesso potrebbe cadere anche qualche pedoncino alfiere f6 è la mossa che viene giocata dal nero questa cattura non viene presa in considerazione da parte del nero poiché seguirebbe l'entrata su d6 e forse altri problemi alfiere in f6 g5 alfiere in e5 c5 e ora torre d8 perché il nero non ha catturato questo pedone ora il nero ci ha messo una ventina di secondi per fare questa mossa come puoi vedere la cattura sembrava perdere un pezzo in realtà la cattura è la mossa migliore si crea una buona maggioranza però dici cavoli ma qui si perde un pezzo no allora scacco il re si deve togliere essenzialmente può andare qui o qui chiaramente su questa si perde si perde tranquillamente perché c'è alfiere 6 scacco poi ti prendo l'alfiere su re in e8 in realtà questo alfiere non ha scacchi perché se dovesse dare scacco in g6 il re semplicemente si pappa la torre quindi sarebbe uno scambio alfiere per alfiere la posizione sarebbe assolutamente pari chiaramente i giocatori stanno giocando velocemente forse tutto questo tempo per calcolare non c'era e quindi un'apertura della colonna d con entrata di torre in settima fa sempre paura e calcolare tutto forse non c'era il tempo quindi la più torre di 8 forse più sicura attacco su torre e ora la torre sembra che non ha case dove può andare qui non può andare c'è la torre qui c'è l'alfiere qui c'è la torre e il il nero giocò torre per f6 sacrificio di qualità ma perché la torre non poteva catturare a 2 perché amico mio c'era bam te questa quindi la posizione inizia il nero inizia a vacillare re in f2 alfiere d4 scacco re g2 attacco di pedone e adesso questo alfiere campo chiaro starebbe sicuramente bene in c4 ma il bianco decide di posizionarlo in e4 per il solito principio di semplificazione cioè l'idea è quello di dato che il bianco in vantaggio è in vantaggio il bianco sì in vantaggio in materiale più 2 vuole semplificare la posizione cattura cattura c4 ora questi due pedoni possono essere veramente una spina nel fianco bisogna calcolare bene molto bene nel dubbio che cosa fa il bianco centralizza il re una delle cose più importanti da fare nei finali partita anche il nero si centralizza anche se forse valeva la pena dare un occhio a questi pedoni infatti g6 i pedoni avanzano così come avanza il pedone del nero attenzione che se arriva questa può creare qualche problema torre bc1 contando sul fatto che il pedone in b non può avanzare perché è tenuto dal pedone in e2 il re si avvicina e ora h5 questi due pedoni iniziano essere veramente veramente forti torre g8 ti starei chiedendo ma perché il nero è andato lì sulla difensiva alla fine se arrivava qui questo pedone lo catturava e ora che questo sorreggeva quest'altro pedone ci volevano un casino di mosse forse il nero avrebbe potuto semplicemente accelerare i tempi di qui vediamo che cosa sarebbe accaduto su per esempio un'ipotetica a4 con l'idea di giocare b3 e poi chiaramente di andare a spingere questi pedoni guarda g7 b3 qui si può catturare o no è uguale h6 b2 attaccando attenzione attenzione qual è la mossa corretta ora se togli la torre la mossa corretta è h7 l'idea è ok tu immagino a torre vai promozione con regina va bene ho perso una torre ma io inevitabilmente andrò a promozione non solo qualsiasi mossa che mossa può fare ora il nero non solo andrò a promozione ma se tu mi dai la torre avrò ancora un'altra donna quindi per questo il nero ha prima cercato di fermare questi pedoni torre g8 torre d3 si cerca l'avanzata raddoppio di torri e adesso torre in d6 e su questa mossa il nero abbandona abbandona con due secondi sull'orologio l'idea è che se il nero ora gioca una mossa qualsiasi segue torre in d5 scacco matto l'unica per parare sarebbe stata un torre in un alfiere d2 per interrompere la comunicazione fra queste torri tra l'altro ora questa torre impresa ma dopo non so un torre in sulla colonna c i pedoni fanno fatica ad avanzare e i pedoni g e h continueranno e probabilmente si andrà a promozione bene spero che anche questa partita ti sia piaciuta purtroppo un armageddon quindi una partita giocata blitz ma queste sono le regole di questo torneo e noi ci vediamo nella prossima partita ciao